Nessuna rissa e nessun branco, ma una lite tra due coetanei. È tutto chiaro al momento per i carabinieri di Civitavecchia intervenuti per il trambusto che si è creato lunedì mattina fuori all'istituto Stendal, al momento in cui i ragazzi escono da scuola dopo il suono dell'ultima campanella. Secondo i militari della caserma di Via Antonio da Sangallo, intervenuti immediatamente sul posto, i momenti di tensione hanno riguardato due quindicenni che si sono picchiati per questioni amorose. I due, innamorati della stessa ragazza, sono passati dalle parole ai fatti con uno dei due che ha avuto la peggio per un pugno incassato che gli ha provocato un livido sul viso. Nessun naso rotto quindi né ricovero all'ospedale San Paolo, visto che il giovane se l'è cavata con l'immediato ritorno a casa ed una prognosi di pochi giorni. Intorno ai due studenti, come avviene in occasioni analoghe, si è creato un capannello di curiosi, compagni di classe e alunni dell'istituto che hanno assistito alla scena. A fare luce e a chiarire come siano andate le cose ci hanno pensato gli stessi due protagonisti, identificati e sentiti dai carabinieri nell'immediatezza dei fatti. Stando quindi alla ricostruzione dei due ragazzi, nessuno dei quali ad oggi ancora sporto denuncia, presentandosi presso la caserma di Via Sangallo, si è trattato di una semplice lite per la quale quindi non si procede d'ufficio ma solamente acquerela di parte. Diverso sarebbe stato il discorso se si fosse trattato di una rissa, quindi se ci fosse stato il coinvolgimento attivo di più persone per la quale a livello giudiziario i carabinieri avrebbero dovuto procedere d'ufficio. Per fortuna non è questo il caso, stando alle informazioni attualmente in possesso dei militari, anche perché l'esito dello scontro sarebbe potuto essere ben più grave.